ciao ragazzi e ben ritrovati all'appuntamento del consigliato da car fishing online premessa all'interno di questo video troverete durante la visione un codice sconto il codice sconto di questo video prevederà la possibilità una volta visionato il codice sconto di applicarlo all'interno del carrello prima del checkout del vostro ordine online e avrete la possibilità di acquistare nel caso di oggi il marchio Ridge Monkey con un 10% di sconto da sabato ore 8 di sera ore 20 fino a lunedì alle 10 dopo il codice sconto scadrà e non ci sarà più quella possibilità qua quindi guardatevi il video e guardate lo codice sconto e se vi interesserà da sabato alle ore 20 fino a lunedì alle ore 10 questo codice sconto qua vi permetterà di acquistare tutto quello che ho all'interno dello store a marchio Ridge Monkey con il 10% di sconto ed ora partiamo col video naturalmente avevo già detto si parlerà del marchio Ridge Monkey e oggi all'interno del consigliato ho voluto portare quello che è la loro borsa frigo e chiamarla borsa anche abbastanza riduttivo è la cool a box compact capienza 12 litri a marchio Ridge Monkey non è una vera e propria borsa ma è più che altro proprio un frigo plastificato compatto ma robustissimo robustissimo addirittura impreziosito da questo cavatappi frontale e da delle aperture molto semplici in testa che vi permettono di accedere all'interno del vano frigo eccolo qua lo faccio vedere anche internamente la capienza 12 litri e hanno ben pensato anche di mettere all'interno della confezione questi due diciamo ghiaccioli che una volta posti in freezer per 24 ore poi applicati qua sopra vi emaneranno e vi manterranno il freddo all'interno del vostro della vostra cool a box la cool a box è dotata anche di maniglia di trasporto e trova praticamente spazio in tutti i bagagliai di tutte le auto anche perché il prodotto è molto compatto a chi lo consiglio lo consiglio a tutti coloro che vorranno riporre all'interno prodotti freschi e quindi poter bere bevande fresche o per chi magari vuole metterci all'interno prodotti che poi devono essere concinati ma che comunque devono essere conservati al fresco ma anche per tutti coloro che utilizzano esche prive di conservante e che vogliono mantenerle all'interno fresche per evitare che si formino delle muffe questo secondo me è il prodotto che fa al caso vostro questo prodotto come tutti i prodotti a marchio ridge monkey li trovate sul sito di carfishing online www.carfishingonline.net in questo caso qui alla sezione campeggio borse frighi a marchio ridge monkey e io con questo se vi è piaciuto il video mettete il like e con questo vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 16 ciao ragazzi